Circavamo Johnny Ryan, sono sua moglie, ex moglie, siamo divorziati, solo che siamo ancora molto legati, è complicato. Soltanto i familiari. Sono sua cugina. Sono ammessi i parenti stretti. Cavolo, avrei dovuto dire sua sorella. Promettimi che ci saremo sempre l'una per l'altra. Croce sul cuore. Sto scappando e voglio che vieni con me. Vuoi salire in un auto di sconosciuti? Sì, sconosciuti gentili, così è sicuro. Tu sei la migliore amica che si possa desiderare. Mi scusi, lei è Tully Hart, non è vero? Sì, e adoro i miei fan sul serio. Ma è stata citata... C'è la possibilità di fare una foto con lei? Mi ha fatto causa, ha silenziato la mia voce, quindi me la riprendo. Farò un documentario sulla ricerca di mio padre. Johnny! Forse dovresti parlare con qualcuno. Mi preoccupi. Non siamo sposati, non ti preoccupare per me. Sì, beh, lo faccio lo stesso. Ho perso il filo di tutto. Non so più neanche chi sono ormai. Tu sei il Tully Hart! L'abbiamo rotto per un milione di motivi, ma al momento ti amo ancora. Ho sentito che ora sei gay. Sai, lo sono da sempre, ma non l'avevo detto a mia moglie. Tully Hart! Visto? Non ho alcun interesse per te. Se lo dici tu... Dicevo seriamente, io non posso essere l'uomo che meriti. Mi ha rubato la battuta. Quando sei giovane ci sono tante strade da percorrere. E' tutta la mappa davanti a te. Poi a un solto punto verso i 40 anni ti rende conto che non puoi tornare indietro. Voi siete sorelle. Siamo migliori amiche. Non darlo mai per scontato. Non tutti hanno una migliore amica. Siamo migliori amiche.